Land Rover Land Rover annuncia il lancio della nuova Range Rover, il SUV più raffinato e capace del mondo. Il nuovo modello, quarta generazione dell'iconica linea Range Rover, è stato presentato durante uno spettacolare evento svoltosi alla Royal Ballet School di Londra a Richmond Park. Il nuovo modello, quarta generazione dell'iconica linea Range Rover, è stato presentato durante uno spettacolare. La nuova Range Rover è il SUV di lusso per definizione e si colloca nel solco della tradizione del modello originale, nato oltre 40 anni fa, del quale conserva tutto lo spirito innovativo. Con la sua struttura interamente in alluminio, primo SUV al mondo a presentare tale soluzione, la nuova Range Rover, ammiraglia del marchio, amplia le proprie capacità per lusso, raffinatezza, prestazioni, sostenibilità e guidabilità su qualsiasi terreno. Il nuovo modello è stato progettato per soddisfare gli standard di raffinatezza più elevati richiesti a un'autovettura di lusso. Grazie alla sua rinomata gamma di motorizzazioni caratterizzate da una coppia eccezionale, la nuova Range Rover garantisce prestazioni agili e reattive. La gamma comprende un propulsore a benzina, il 5 litri LR V8 Supercharged, da 510 CV, e 2 diesel, il 3 litri TD V6 da 258 CV e il 4,4 litri SD V8 da 339 CV, tutti abbinati ad una trasmissione automatica a 8 rapporti, dolce e reattiva. Il prezzo partirà da Euro 91.500. Il prezzo partirà da Euro 91.500. Grazie a tutti